Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono io sono Hacker 1000e vabbè e oggi vi farò vedere come mettere il puntino allora nello scorso video quindi quello che vi potevo vedere il mio range di idee ho sbagliato a dire il nome perché il mio vecchio chiamale si chiamava così ormai l'ho eliminato quindi scusate allora andiamo prima di tutto su importazioni poi ho sbagliato mi consenti allora andiamo su info sul dispositivo e fate codice monel aspetta non ho sbagliato fate nome dispositivo no fate no aspetta dovete andare su tutto vero info sul dispositivo codice monel e no aspetta dovete andare su ecco codice monel io a me non me lo fa perché già l'ho fatto fate codice monel e vi affacerà opzioni sviluppate andate su opzioni e voi potrete cioè dovete andare prima su mostratocchi voi potrete fare il puntatore oppure il c'è sto robo questo puntino quindi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video belle 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 belle